Il passato è nelle tue mani. Abstergo Ciao iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Gekko, Baby, Fry sono gemelli. Non è grandioso. Parli del diavolo. Usa la videocamera, Becky. Ho l'immagine. Hai un tempo previsto? Sto inviando. È tanta roba. Metterò subito gli iniziati al lavoro. Sei strano con un'arma. Ora metto un piccolo virus e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. Isabella Ardant ha un incontro qui fra poche ore. Non so con chi. Davvero non sai con chi, Rebecca. Se solo lo volessi lo potresti scoprire. Calmatevi. La missione è trovare dati su un frutto dell'Eden a Londra. Fatto. E ora voglio proprio provare il nuovo pizza. Detesto quando prendono iniziative. Bene, non resta che fare un bel respiro e continuare. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Evie Fry, due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Fratello Giorgia, è proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto tre volte implorando aiuto. Tre volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora. Perché sono disperato. E non ho alternative. La città di Londra ha bisogno di voi. Mi dirai che è un rischio enorme. Che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro gran maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starric e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti. O con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starric in un mondo. Ai regni e ai continenti ancora liberi. Ancora per poco. Perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris. Nostro primo bersaglio. Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande! Oh, giusto! Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George, sul serio. Ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Concerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George. Emi ci chiama. Jacob! Vivi! E il credo mi guidi, vagabondi! Povero uomo. Vive nella paura. Sono stati anni duri. Vivi, Fry. In questo stato dovete vivere. Piantala subito, Jacob. Divertiti. Non morire. Per quanto ancora intende continuare? Stai disturbando gli altri operai. Fatelo sacere! E aggiustate quella macchina! Voglio dell'audano per il mal di testa. Arrivo subito. Sì. Sono stati che c'erano. Noi. Come vediamo l'automapie. Un'altra maniera. Non viaggiscio? Samp舒assi. Sampassi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa credi di fare? Ora basta, finiamo nei guai! Non si entra né si esce, almeno di problemi. Fermo le macchine. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. Non ci farà impiccare! Che cosa succede? Chi di voi è il responsabile? Noi non c'entriamo, lo giuro! Non c'entriamo la verità! Mi piccherò la c***a per questo! Spassano! Tu che sei? Un ispettore sanitario. Quest'uomo è morto. Tu sei morto! Corri a casa, bello! Ora si potrà le pietra! Ora si potrà le pietra! Ora si potrà le pietra! Che diavolo! Ferris, sto arrivando! Devo spostarmi più in alto! Bello! Seguì! Sciogorri! La porta è un forte e bella delle части! Non giattackare è solo lezioni! Fa entree con le mali! Non allezate! Se dovremmo perdere... Guarda me anche stir le s... Le alcune persone sceglie... ...e un grande appigia delle persone sceglie sceglie! Sì, sembrava che sia un messo, resta seguito. Simplemente. Se ti assegnano in fonderia devi fare attenzione. L'ufficio del signor Ferris è lì e chissà. Hai buona impressione o per te è finita. Vedi le macchine? Il ferro parte da lì e adesso al lavoro. Qui le regole sono chiare. Il lavoro futuro viene pagato. Lì non lo fa il favore. Giusto? E che si dice che è l'amore? Hai cercato? Adesso bello! Se la cosa si vettura, non te lo dimenterei bene. È lì! Marina, è vicino! È mio! È mio! Sono meina! È mio! Grazie a tutti. 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 C'è un ragazzo che dovrebbe essere medicato in farmacia. Bene. Decurtategli la paga. Sì, signore. Arriverà la resa dei conti, signor Ferris. Grazie a tutti. 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 Alcuno si sta avvicinando il tipo. Grazie a tutti. 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 Siete arrabbiati. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. la prossima. a tutti. 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 la a tutti. 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 a tutti.